sapete quali sono i disturbi più in crescita negli ultimi anni ai primi posti troviamo le malattie infiammatorie dell'intestino e colpiscono persone sempre più giovani fino ai bambini pensate in italia ne soffrono oltre 200 mila persone e negli stati uniti oltre 2 milioni terribile ma quali sono queste malattie si parla di colite e sindrome del colon irritabile nei casi meno gravi fino a morbo di cron e colite ulcerosa nei casi più gravi quando diventano croniche oggi vediamo cosa ha scoperto uno studio rivoluzionario sui rimedi per combattere l'infiammazione direttamente dentro l'intestino se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video attenzione alla fine del video vi svelerò come assumere uno di questi rimedi con un cibo speciale anche a casa sono rimasta sorpresa quando l'ho letto e stupirà anche voi allora lo studio è stato pubblicato su nature communications e condotto dal center for cellular and molecular platforms a bangalore in india insieme al department of microbiology and immunology della university of louisville usa wow i ricercatori hanno scoperto che il problema dell'infiammazione è legato alla barriera intestinale ed esiste una molecola in grado di rafforzare la barriera intestinale si chiama urolitina a quando assumiamo questa sostanza i tessuti delle pareti dell'intestino e villi intestinali si rafforzano e l'infiammazione si riduce in tutti gli esperimenti l'urolitina a ha dato risultati molto incoraggianti squarozzi dice che sarà una sostanza costosa e complicatissima in realtà è semplicissima è un metabolita cioè una sostanza naturale prodotta dal nostro corpo quando metabolizza un cibo e il cibo speciale che vi dicevo è un cibo di colore rosso rubino qualcuno ha già indovinato prima di svelarvi il nome di questo cibo speciale vi ricordo che la maggior parte degli amici che guardano i miei video si iscrivono mettono mi piace e condividono sui social e mi aiutano a portare avanti la mission di questo canale con un abbonamento mensile info in descrizione bene sapete da quale cibo si produce l'urolitina a dal melograno che è un frutto buonissimo io lo adoro anche a noi piace la melograna ecco un altro beneficio incredibile che si aggiunge alla già lunga lista dei benefici del melograno ho spiegato come mangiare questo frutto e tutti i suoi benefici in questo video ecco adesso sapete come avere cura del vostro intestino mangiando cibi sani e pure golosi se ami anche tu la salute naturale metti mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente ciao ciao